E' oggi il giorno della verità, inserata ai dati della cabina di regia ministeriale, in base ai quali si decideranno i colori delle regioni a partire da lunedì. Al termine del decreto ponte che impone in tutta Italia la zona arancione nel weekend, dall'11 gennaio si tornerà al sistema delle restrizioni diversificate per regione. L'Abruzzo potrebbe essere zona gialla, malgrado l'aumento di positivi e ricoveri negli ultimi giorni. Nella nostra regione infatti l'indice di contagiosità RT si attesta intorno allo 0,89 tra i più bassi d'Italia. L'RT in Abruzzo è quindi al di sotto della soglia del valore 1, a partire dal quale scatta la zona arancione. Da lunedì infatti il governo ha deciso di adottare un nuovo sistema di valutazione, nel quale la zona arancione come detto viene applicata quando l'RT è a 1, mentre prima doveva essere a 1,25 e la zona rossa scatta quando l'indice di contagiosità è a 1,25, mentre prima doveva essere a 1,5. Ma i parametri in base ai quali sarà deciso il colore delle zone sono ancora 21. L'Abruzzo è al di sotto della media nazionale anche per quanto riguarda la percentuale dei posti occupati in terapia intensiva. Nella nostra regione la saturazione è al 24%, mentre la soglia di allerta fissata dal Ministero è quella del 30%. Situazione sotto controllo anche per quanto riguarda l'occupazione dei reparti ospedalieri ordinari. L'Abruzzo infatti è al di sotto del limite del 40%. Mi aspetto che la zona gialla venga presto confermata, ha dichiarato il Presidente della Regione Marco Marsilio. Oggi dalla cabina di regia ci attendiamo alla classificazione in zona gialla come previsto. Abbiamo un R con T che seppure in crescita è ampiamente sotto 1, sta a 0,89. Purtroppo è in crescita rispetto allo 0,65 di fine anno e quindi dobbiamo continuare a tenere alta la guardia, a mantenere comportamenti responsabili, a fare il massimo sforzo possibile perché questa zona gialla possa restare e durare nel tempo. Immagino che tra qualche ora riceverò la comunicazione ufficiale di essere in zona gialla. Insomma i numeri al momento lasciano presagire che l'Abruzzo sarà presto in zona gialla, detta rafforzata perché saranno comunque evietati gli spostamenti tra regioni. Intanto il Governo sta preparando un nuovo DPCM che potrebbe entrare in vigore dal 15 gennaio. Nel nuovo decreto potrebbe essere introdotta anche la zona bianca, una sorta di isola felice in cui saranno aperti anche palestre, cinema, teatri e musei. Nella zona bianca inoltre sparirà il coprifuoco ma rimarrà l'obbligo di indossare la mascherina sia all'aperto che al chiuso. Il Comitato Tecnico Scientifico ora dovrà stabilire i criteri in base ai quali poter rientrare nel livello di seminormalità. Al momento pare scontato che la zona bianca sarà accessibile solo alle regioni il cui sistema sanitario è meno in affanno e in cui l'indice RT è al di sotto dello 0,5, situazione questa in cui al momento non vi è nessuna regione italiana. Grazie a tutti.